Capita anche a te di farti condizionare dalla paura di non piacere a tutti quando parli in pubblico o in video? Te lo dico subito, piacere a tutti è impossibile! Ciao, sono Chiara, allenatrice di Public Speaking e di Video Public Speaking. Ti alleno di persona o via web, anche in inglese e in tedesco, anche attraverso percorsi individuali personalizzati. In questo video parliamo di una delle paure più diffuse nel Public Speaking, ovvero la paura di non piacere a tutti. Proprio per aiutarti ad affrontare e a superare questa paura vedendo questo problema da altre angolazioni, ho cercato di capire quali possono essere le persone che assisteranno ad un tuo speech o guarderanno un tuo video. Metti in conto che tra i tuoi spettatori potrai avere degli haters, quindi delle persone che sono gelose di quello che fai e quindi queste persone faranno di tutto per metterti il bastone tra le ruote. Se sono in aula potranno magari provocarti o se vedono un tuo video potrebbero magari farti dei commenti negativi. Insomma queste persone in realtà sono lì apposta per dirci che siamo bravi e quindi ci dovrebbero spingere a credere ancora di più in noi. Se dovessi mai trovare in aula degli haters, se dovessero questi haters diventare troppo pesanti e difficili da gestire, allontanali o farli allontanare. Nel pubblico potresti trovare anche una percentuale di scettici, ovvero di persone che ancora non sono convinte del tuo valore, ancora forse non hanno ben capito cosa fai, come lo fai, perché sei diverso dagli altri. Di solito gli scettici sono o neutri oppure più propensi alla diffidenza. Quindi queste persone sono persone semplicemente che devono ancora conoscerti. Metti in conto che tu potrai dare il meglio di te stesso per far vedere loro che sei bravo e competente, ma che potrà sempre accadere che non a tutti piacerai. Un'altra categoria di spettatori che potranno vedere i tuoi video o assistere ai tuoi speech sono i supporter. Quindi sono quelle persone che ti supportano, che ti conoscono e che credono in te, quindi hanno un approccio ottimista nei tuoi confronti. Il mio consiglio è fai di tutto chiaramente per non deluderli e per trasformarli in quella che è l'ultima categoria di persone che possono essere nel tuo pubblico, ovvero i cosiddetti fan. Quelle persone che si alzano alle 3 del mattino per venirti a vedere ad un evento e che non vedono l'ora di vederti dal vivo. Ecco quelle sono le persone da cui devi sempre prendere più energia. Quindi ricapitolando, fai finta che gli haters non ci siano, non permettere mai a loro di farti pensare che non vale abbastanza. Anzi proprio questi haters con il loro comportamento ti stanno dimostrando che sei veramente bravo e che loro si stanno ingelosendo di te. Prendi energia dai supporter e fai di tutto per trasformarli in fan. Focalizza la tua attenzione sui fan per prendere la loro energia positiva e fai di tutto ovviamente per far sì che continuino ad essere i tuoi fan. E per quanto riguarda gli scettici, dai del tuo meglio per far sì che loro possano capire il tuo potenziale e continuare ad ascoltarti e a seguirti. E metti in conto che ci sarà una percentuale di persone alle quali non piacerai, oppure che ci sarà una percentuale di persone che non sono ancora pronte a cogliere il tuo valore. Prima ti libererai dall'ansia di piacere a tutti, prima potrai scoprire che il public speaking non è soltanto un importante e fondamentale strumento di business, ma può essere anche un modo divertente appassionante per comunicare il tuo valore. Vuoi continuare a migliorare il tuo public speaking e il tuo video public speaking? Vai subito su www.chiaraalzati.it. Entra gratuitamente nella mia community lasciando il tuo miglior indirizzo mail e accederai subito ad una serie di bonus, tra i quali anche la possibilità di ricevere direttamente a casa tua una copia gratuita dei miei libri. Ciao e al prossimo video!